Ieri sera sono riuscito a fare una telefonata a un anziano prete italiano, missionario dalla gioventù in Brasile, ma sempre lavorando con gli esclusi, con i poveri. E vive quella vecchiaia in pace, ha bruciato la sua vita con i poveri. Questa è la nostra madre chiesa, questo è il messaggero di Dio che va all'incrocio del cammino.